Ehi, benvenuto nel mio nuovo video. Ti consiglio di passare nella descrizione dove trovi tutti i miei social, soprattutto passa dal sito Viola dove streamo tutti i giorni, Instagram per rimanere aggiornato su video e live e Discord per chattare con me ogni tanto. Inoltre ti consiglio di iscriverti al canale dato che ho scoperto attraverso YouTube che molti di voi non sono iscritti. Detto questo, buona visione! E ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video di Among Us. Oggi siamo qua, come avete letto dal titolo, per andare a vedere alcuni consigli, alcuni segreti che forse non conoscete ancora su Among Us, in particolare come ottenere l'invisibilità all'interno del gioco. Insomma, alcuni trucchetti che secondo me vi possono ritornare utili all'interno delle partite che potete fare con i vostri amici. Prima del video però vi ricordo di lasciare subito un pollicione all'insù e di iscrivervi al canale nel caso mi piacessero i miei video perché stiamo avendo una crescita molto molto rilento. Capisco anche che il periodo non è dei migliori per portare video perché non ci sono grandi contenuti da portare e questo ne sono totalmente d'accordo con voi. Detto questo però lasciatemi un feedback qua sotto di cosa ne pensate del video. Prima di farvi vedere tutti i vari posti vi ricordo che avete la possibilità di abbonarvi e donare qualcosina qua sotto nella descrizione. Detto questo spostiamoci su note che ho un blocco scritto delle parole riguardo a questi posti. Eccoci qua nel nostro blocco note, in particolare ho introdotto Among Us dicendo che naturalmente questo famosissimo gioco che naturalmente stanno arrivando nuovissime cose, in particolare la cosa più aspettata di tutti che è la nuova mappa Dare Ship. Allo stesso tempo però gli utenti stanno giocando molto a questo gioco anche se a gennaio non è stato più il gioco più scaricato ma sempre uno di quelli più giocati. In particolare una cosa importante da ricordarsi è che ci sono già tre mappe all'interno del gioco che sono The Skelde, quella che penso conosciate tutti, la classica astronave rappresentata proprio in tutti i video di Among Us, la Mira HQ che è la seconda mappa, quella di colore rosso, che ha il titolo di colore rosso e che ha la caratteristica di avere delle event che vi permettono di spostarvi molto velocemente da una parte all'altra nel caso fosse impostori, invece nel caso fosse dei crewmate la situazione diventa già più difficile ma allo stesso tempo ci sono alcuni oggetti come la security, come l'admin che vi permettono di controllare al meglio tutto e poi per ultima c'è la polus che è quella verde, quella che diciamo è un po' più complicata da giocare perché è più aperta. Nonostante questo ci sono degli ottimi nascondigli che sono usciti ultimamente che possono essere utili sia per gli impostori sia per i crewmate insomma naturalmente la cosa migliore è quella di avere un nickname corto e rinunciare alle skin personalizzate ai propri avatar soprattutto a quelle che prevedono dei pet quindi quegli animaletti che ti vanno vicino e ti girano intorno e ti seguono nei tuoi movimenti e soprattutto a quelle con i cappelli molto molto grandi quindi che nel caso di nascondigli che prevedono di stare attaccato contro una parete si rischia di farsi vedere detto questo però bisogna parlare di tutti i posti che ti possono rendere invisibili all'interno del gioco ho diviso l'argomento per tre, la prima è The Skeld infatti nella mappa The Skeld presenta pochi nascondigli ma sono davvero molto molto utili in particolare quello migliore è quello nella sala reattore la sala reattore per farci capire è quella più a sinistra di tutti quella dove c'è quella task nel caso di sabotaggio che uno deve mettere una mano sopra e uno deve mettere la mano sotto ecco, nello specifico dietro la macchina reattore posizionata al centro della stanza bene, se noi ci mettiamo dietro al centro di questa stanza e ci mettiamo dietro la macchina reattore l'avatar di chi gioca è in parte celato ma se vestito di bianco può mimetizzarsi con i colori della sala quindi si predilige in questa mappa un colore bianco che permetta all'interno di questa sala reattore di totalmente mimetizzarsi io vi consiglio soprattutto agli impostori in questo caso di nascondersi dentro questa cosa perché basta che poi schiacciate il tasto sabotage quindi chiamate tutte le persone in reattore perché devono mettere a posto la task se no perdono la partita e a quel punto voi uscite dal nascondiglio e in mezzo al macello, in mezzo a questo mucchio di persone che arrivano tutte ad un colpo pam, fate la kill e siete a posto detto questo, non c'è soltanto questo nascondiglio ma c'è anche un altro nascondiglio che è nella sala delle comunicazioni, quella più in basso, The Comms dove basta posizionarsi dietro da una sedia d'ufficio messa davanti ad una sede delle scrivanie della stanza vabbè, questo è un classico nascondiglio utilizzato già da molti player di voi quindi andate nell'ultima stanza verso il basso partendo dall'admin ebbene, lì c'è un nascondiglio molto molto interessante che non nasconde totalmente l'avatar ma rende molto difficile l'individuazione ai giocatori che entrano successivamente a questo player dentro la sala comunicazioni parlando di Miracacool il migliore nascondiglio di questa mappa è sicuramente l'armadio nel magazzino o storage, dato che il gioco al momento non è ancora disponibile in italiano quindi in storage sapete che c'è la stanza storage bene, nella stanza storage di Miracacool c'è un armadio e praticamente qua dentro per non essere individuati è obbligatorio avere le regole del nickname corto e delle skin poco appariscenti perché diventano obbligatorie ragazzi, purtroppo in Miracacool non è come in The Scalding qui ci sono molte zone ombra quindi non si può sfruttare questo elemento naturale ma è necessario avere questi piccoli accorgimenti dal punto di vista del nickname un altro punto di interesse sempre del quartiere generale di Mira è il balcone che è all'estrema sinistra della mappa totalmente a sinistra dove è possibile anche trovare un satellite esatto, posizionandoci proprio dentro questo satellite avremo la possibilità di essere praticamente invisibili agli altri utenti, agli amici o nemici che siano quindi insomma praticamente a tutti passando invece nella terza mappa Polus che è una mappa un po' più complicata da trovare nascondigli per il semplice fatto che è molto aperta è una mappa che è caratterizzata dall'essere molto aperta e quindi presenta un unico nascondiglio che si rivela più utile ai crewmate che agli impostori in realtà perché la posizione ricercata è abbastanza particolare infatti per raggiungere tale nascondiglio occorre dirigersi nell'angolo in alto a destra della sala comunicazioni proprio accanto al magazzino lì è presente un'altra torre satellitare dietro la quale i crewmate possono nascondersi in questo caso la copertura dell'avatar è completa ed è davvero utile per evitare di essere braccati all'impostore in particolare ragazzi non so se avete presente quando vengono sabotate le torri della luce esatto, quando arrivano le torri della luce c'è una parte dietro la torre della luce che è coperta da un muro bene, con i crewmate è molto utile nascondersi dietro questa parte perché si ha praticamente la completa difesa del proprio corpo e poi nel caso arriva su un impostore è molto complicato che vi veda cioè l'unico modo che ha per uccidervi è avvicinarsi al palo della luce e poi gli spunta il tasto killa a quel punto lo schiaccia e uccide però è anche questo molto molto complicato che avvenga insomma sono dei nascondigli sicuramente molto nuovi che penso che qualcuno di voi non conosceva quindi fatemelo sapere nei commenti cosa ne pensate aspettiamo quelli di dare chip quando uscirà la nuova app che sicuramente usciranno altri nascondigli molto più interessanti detto questo io spero che il video vi sia piaciuto nel caso fosse così vi invito l'occasione di mettermi un like di iscrivervi al canale di attivare la campanellina e niente magari di passare anche dei miei social network che sono sempre qua sotto in descrizione noi ci becchiamo sempre ogni giorno un giorno sì un giorno no qua sul canale bella boys bella